Un progetto di alternanza scuola-lavoro, in collaborazione con la Gori, denominato Ideazione, giovani correnti innovative per creare valore, è quello che ha avuto inizio ieri pomeriggio alla presenza della preside dell'IT Elia di Castellammare, Giovanna Giordano, del vice presidente di Gori Luigi Mennella e di Salvatore Rubbo, responsabile del personale di Gori. L'iniziativa del gruppo Acea, adottata anche da Gori, in collaborazione con Consel, Consorzio Elis, mira ad attivare un circolo virtuoso di scambio scuola-azienda. Il programma, infatti, offre a 300 studenti di istituti tecnici e professionali del quarto anno scolastico, tra cui anche l'IT Stabiese, l'opportunità di confrontarsi con professionisti sui temi dell'ambiente e dell'uso responsabile delle risorse naturali. Per Gori, l'iniziativa sarà l'occasione per promuovere sul territorio in cui opera i valori della sostenibilità, rivolgendosi alle nuove generazioni. I professionisti e gli esperti dell'azienda, denominati maestri di mestiere, entreranno nella scuola per aiutare gli studenti a sviluppare progetti innovativi sui temi legati all'ambiente e all'acqua in particolare, volti alla salvaguardia e al benessere della collettività. Ai due istituti vincitori andrà un premio di 3.000 euro riconosciuto dal Comitato Etico di Sostenibilità di Acea. L'obiettivo di Gori, intanto, è quello di essere presenti con i ragazzi. Già da tempo la Gori è presente con dei progetti, quali sono quelli del risparmio idrico, piuttosto che il progetto sull'ambiente stesso. Lo fa dedicando delle giornate ai ragazzi, lo fa facendo partecipare i nostri tecnici appunto in sinergia con i ragazzi e passando loro quelle che sono le nostre idee. In questo progetto, che è previsto nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro, invece, la Gori ancora una volta c'è, vuole partecipare e fare in modo che questi ragazzi possano trovarsi ad operare in modo più reale, che non solamente è puramente teorico, di quello che poi sarà il loro lavoro. È un progetto di alternanza scuola-lavoro che coniuga la possibilità di venire a contatto con maestri di mestiere e di esperienza e quindi di imparare, di avere delle competenze, di avere delle competenze forti nel campo lavorativo, ma unisce anche un forte valore sociale perché tratta dei temi della sostenibilità ambientale, della prevenzione di comportamenti che portano allo spreco di risorse come l'acqua, che sono vitali, però non sono inesauribili. E di questo noi dobbiamo tener conto. Per cui questa duplice valenza dà a questo progetto uno spessore molto forte e speriamo che questo sia l'inizio di una collaborazione che porti a sviluppi sempre maggiori.